Scusi signore, come mai lei ha questa giacca di questi colori così forti? Perché io sono proprio caffone, mi piace a me vestire così, capito? Ah, io sono del nord invece. Di che parte siete? Ah, io sono di Bologna, il nord è tutta un'altra cosa. No, dicetemi una cosa, ma voi al nord Bologna, me lo mangiate il pane? Come il pane? Certo, però a Bologna noi preferiamo la monliga. E' la scorsa che noi facete? Ah, la scorsa, noi facciamo i grissini, quello che avanzi, i grissini per il sud, per voi meridionali. Ah, ce l'ho capito, ma c'è la punta di come la menta di Napoletano. E dicetemi una cosa, la frutta, me lo mangiate la frutta? Sì, noi mangiamo la frutta di stagione, solamente la frutta fresca. E sa che cosa facciamo con le bucce, le bucce e gli avanzi noccioli della frutta? Non lo so, c'è. Noi al nord facciamo la marmellata per voi del sud, per voi del meridione. Ah, ce l'ho capito. Voi me lo mangiate la marmellata buona. Buona, io mi faccio la marmellata. Eh. E dicete una cosa, ma voi facete l'amore, facete sesso? Ah, certo. A Bologna il sesso. Siamo le più brave. Siete lavorati voi, siete lavorati. Siamo le più brave. E dicetemi una cosa, ma voi usate quella cosa, le preservative? Oh, sempre sesso protetto, sempre sesso protetto. E dopo lo buttate, lo buttate. E chiaro, e mica si conserva il preservativo. Il preservativo si butta dopo l'uso. No, no, noi invece... Voi che ne fate? Perché voi lo conservate? Sì, noi lo conserviamo. Ma come ne fate? Noi dopo che l'abbiamo usata, facciamo le gomme masticanti per quelle del nord, per il bolognese.